Signor Sindaco, un crollo di un muro questo pomeriggio sta bloccando la strada verso Montalto, ma si sta già iniziando a lavorare? Si sta iniziando a lavorare, dovrebbe arrivare lo scavatore o una ruspa per mettere in sicurezza questo spunto che è rimasto e poter sgombrare la strada. Abbiamo l'alerta 2 alle 5, quindi anche questa è una valutazione che faremo poi più tardi perché vedremo anche con l'acqua che arriva. C'è un ferito ma poteva andare peggio? Un ferito che però non è stato direttamente coinvolto da Fran, nel senso che era dentro la casa nella fretta di scappare, scivolato e caduto. C'era una previsione sulla riapertura? Questo dipende molto dall'alerta perché se il tempo ci permette di lavorare io penso di serata possiamo riaprire, se no domani mattina dopo passaggio dall'alerta.